Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Siamo come sempre su Final Fantasy VII Ver Crisis e finalmente oggi parliamo delle novità in generali che sono state aggiunte all'interno del gioco e poi come sempre ci sposteremo verso quello che è l'analisi e il pensiero complessivo del nuovo banner che è stato rilasciato per l'appunto oggi. Cominciamo partendo dall'aggiunta fondamentalmente di quella che sarà l'aggiunta della nuova Double Summon ovvero Shiva e Ramu. Io già solo al pensiero mi sento male perché è strana questa coppia. Cioè Shiva debole al magico, Ramu debole al fisico. Sarà una bella rottura di palle questa Double Summon. Sono curioso di vedere soprattutto come funzioneranno perché se funzionano nello stesso modo in cui funzionano normalmente sarà un casino. Cioè Shiva che mette il Silence, Ramu che praticamente carica l'attacco. Sarà un delirio questa Double Summon. Quindi non so effettivamente cosa pensare. Sarà abbastanza particolare. E per quanto riguarda ovviamente l'arrivo della Double Summon parliamo del 2 ottobre 7pm che sarebbe per noi il 3 ottobre alle 4 del mattino. Quindi quando finirà praticamente l'anniversario perché l'anniversario finirà appunto giorno 2 ottobre fondamentalmente o per meglio dire il 3 ottobre di mattina viene aggiunta la Double Summon. Per quanto riguarda invece questo era un problema appunto per chi aveva acquistato i cristalli rossi però ovviamente a me non mi interessa ma soprattutto la maggior parte della gente che ci segue o che mi segue fondamentalmente non interessa perché siamo l'80% free to play quindi va bene così. Nuovi pacchetti che sono ovviamente messi a disposizione per chi vuole comprare i pacchetti con gemme rosse con soldi veri. Quindi abbiamo nuovi pacchetti vedete il Crystal Pack B, Crystal Pack C eccetera eccetera che ripeto a me non interessano. Poi abbiamo il banner primo anniversario con il giro singolo da 3000 gemme rosse come è successo anche con gli altri banner disponibile dove sarà possibile ottenere le varie armi del gioco in più la nuova arma di Tifa e la nuova arma ultimate di Kite Seat quindi Kite Seat prende anche la sua arma ultimate. ovviamente è un banner che si potrà pullare una volta sola e costerà 3000 gemme rosse quindi niente di eccezionale. Il banner di Tifa lo andiamo a vedere dopo lo andiamo ad analizzare dopo più nel dettaglio successivamente abbiamo l'aggiunta di diciamo di altre informazioni come vengono definite nell'evento Cetra Story che sarebbe appunto la storia che abbiamo avuto durante questo anniversario che ci ha permesso di ottenere tutte le skin di Bahamut praticamente sono state aggiunte delle nuove ricompense all'interno ovviamente del farming che è possibile fare e basta. Credo che a questo punto siano state aggiunte anche la X probabilmente o comunque la Crash non so se effettivamente è così ma adesso lo andremo a vedere e poi ufficialmente comincia la terza guild battle terza guild battle che ovviamente durerà fino al 2 ottobre praticamente sempre al solito alle 4 del mattino e poi avremo tutto il giorno del dopo praticamente un giorno dopo la fine della battaglia di Gilda avremo il periodo di calcolo delle informazioni e tutto quello che ci interessa ovviamente come si gioca lo sappiamo già abbiamo 3 tentativi al giorno per combattere il nostro boss e poi ovviamente cercare di fare più danni possibili e soprattutto guadagnare più punteggio possibile l'armeria che ci consentirà di incrementare i nostri bonus e che ci consentirà in generale di diventare più forti e poi le strategie di battaglia che vengono divise tra appunto le battaglie MOC e le battaglie ufficiali a partire da questa guild battle avremo addirittura due giorni di MOC battle prima di far cominciare ufficialmente la guild war la guild battle, chiamatela come volete quindi sarà un po' più semplice mettersi a provare e a magari modificare diversi setup per incrementare il proprio danno per incrementare in generale i propri risultati ecco, il boss in questo caso è il non elemento che è efficace contro Bahamut e poi qua ci sono i consigli che vengono dati per il boss quindi, esatto, più rimane la force gouge mega flare charge più il bonus difensivo è boostato poi quando il force gouge viene attivato e il countdown comunque continua una forte resistenza agli elementi al di fuori del non elementale viene sviluppata o comunque viene utilizzata in aggiunta minore è il force gouge alla fine del countdown e meno potente saranno le sue abilità che ne conseguiranno quindi il nostro scopo è quello di ridurre questo gouge da parte del nostro avversario e permetterci di diventare più efficaci una volta che la force gouge viene ridotta da attacchi cioè non appena la force gouge viene ridotta soltanto da attacchi non elementali che sono quelli più efficaci inoltre alcuni attacchi magici potenti verranno utilizzati quindi magic attack down e magic defense up sono efficaci come ovviamente sospettavamo un po' tutti in aggiunta utilizzare dell'equipaggiamento addizionale incrementerà la potenza dell'abilità ancora diciamo ancora di più per quanto riguarda ovviamente i danni che potremo effettuare al nostro boss quindi il mio setup già ce l'ho in mente volevo utilizzare barrett però con questa tifa barrett diciamo non è che non abbia più senso ma è meglio diciamo utilizzare un altro personaggio come matt per esempio quindi io già il mio setup ce l'ho bello che è pronto non vedo l'ora di poterlo utilizzare e poi ah e ovviamente sono state aggiunte anche diverse armi come la citric wand la blue bumble gli ugin e moon in night jar tutte quante ai ticket quindi sono state aggiunte tutte queste armi all'interno della pool dei ticket già a partire da oggi quindi sono state diciamo la notizia è quella di ieri però oggi fondamentalmente sono state già aggiunte insieme al banner tutte queste nuove armi che si possono effettivamente pullare quindi queste sono un po' le informazioni generali che ci interessano andiamo a vedere invece se effettivamente hanno aggiunto la crush hanno aggiunto la crush hanno aggiunto qualcosa eh sì hanno aggiunto hanno aggiunto la ex come coop che è ottima per ottenere i brand direttamente a 5 stelle e invece qui hanno aggiunto la ex 3 quindi nulla di vabbè pensavo qualcosina in più sinceramente pensavo qualche cosina in più va bene va bene ok va bene detto ciò ragazzi io vi auguro buona fortuna con i pull anche se ovviamente adesso parleremo di tifa queste erano semplicemente le informazioni generali giusto per dare un quadro a quello che è stato aggiunto all'interno del gioco e ovviamente ci vediamo con il prossimo appuntamento ciao